Ciao a tutti, buongiorno, grazie Raffa per l'invito. Intanto è un onore essere qua in un evento che praticamente io avevo visto qualche tempo fa, prima di entrare proprio nel Growth Program, che mi aveva catturato tantissimo, perché come sempre all'interno dell'Open Day ci sono un sacco di interventi belli e fighi che poi riportano quello che è all'interno del programma in sé per sé. Oggi praticamente vi voglio far vedere quattro cose che ho ottimizzato grazie al Growth Program, anche se in realtà potremmo forse mettere altri zeri accanto a quel quattro, però anche per mancanza di tempo e ottimizzare un po' anche il tempo, quest'oggi le abbiamo limitate giusto appunto a quattro. Per chi non mi conoscesse, come anticipato Raffa, ho un'agenzia qua a Lisbona, lavoro nei social media da più di dieci anni, ho iniziato con una radio universitaria, ho convinto l'Università di Pisa ad aprire gli account ufficiali, da lì poi sono andato in uffici marketing, fino a che non sono arrivato a Lisbona per colpa dell'Erasmus e ho incrociato il progetto dei Facebook Marketing Expert, che magari qualcuno di voi conosce se fate pubblicità su Facebook ed Instagram, agli arbori di quel progetto, quindi nel 2015. Il mio compito là dentro era quello di ottimizzare le strategie e gli investimenti, proprio per averne il ritorno di investimento, per i commerce, clienti di ogni genere e tipo, e ero focalizzata soprattutto sul mercato italiano. Dopo quasi tre anni, con alcuni dei miei ex colleghi, abbiamo deciso di fondare un'agenzia, che è IDV Plus, che è tuttora qua a sede a Lisbona, ad ottobre celebrerà cinque anni, e quindi ovviamente mettendo su un'agenzia che inizialmente era focalizzata sulla pubblicità di Facebook ed Instagram, c'è bisogno anche di conoscere le altre competenze, soprattutto capire come gira il mondo del digital. E quindi questo è uno dei mille motivi per cui mi sono poi iscritto al program, proprio perché è un mondo super dinamico, dove bisogna rimanere in costante aggiornamento e soprattutto poi bisogna confrontarsi con altri esperti. Detto questo, cosa vi farò vedere oggi in questo microtalk proprio di studies legati al Growth Program? Quali sono le ottimizzazioni che ho ricavato dal webinar? Per chi non lo sapesse, dentro il Growth Program ci sono due tipi di webinar ogni mese, anzi tre tipi. Il webinar tecnico fatto da Raffaele, che tratta i temi vicino a lui, i webinar con degli ospiti legati al mondo digital e delle chiacchierate, dove vengono delle personalità anche di tematiche non strettamente legate alla digital o comunque correlate, ma non troppo vicine. Poi vi farò vedere delle ottimizzazioni che ho fatto tramite la community, proprio perché il Growth Program non è fatto solamente da ospiti e da Raffaele, ma dalle persone che lo compongono. È una bella community variegata di imprenditori, digital strategist, proprietari di startup, ideatori di nuove idee, c'è un po' di tutto. E quindi quali sono un po' di ottimizzazioni che ho ricavato facendo parte della community e poi una grossa ottimizzazione sono quelle delle collaborazioni. Quindi ho ottimizzato parte anche del mio team e del lavoro di tutti i giorni all'interno dell'agenzia, spingendo delle collaborazioni all'interno del program. Quindi partiamo un attimo dalle ottimizzazioni del webinar di Raffaele. Tra l'altro, appuntino, avete visto poco fa la tematica. Qui vedete che sono tre webinar, quindi sono più di tre ore di contenuti fatti da Raffaele in maniera dinamica, dove ovviamente poi abbiamo partecipato live, facendo domande anche live, facendo delle simulazioni di interviste. E questa trilogia di webinar è una di quegli esempi, non è l'unica, ma giusto appunto, vi ripeto, proprio per ottimizzare i tempi, vi porto proprio dei piccoli esempi, ma potremmo stare qua a parlare ore, dato che sono ormai quasi da due anni dentro l'Academy. Quindi questa trilogia di interview praticamente mi ha aiutato a aprire, allargare una parte di comunicazione anche con il cliente e di ottimizzare i suoi flussi all'interno dell'azienda, proprio perché era una parte che non mi riguardava da vicino. Come vedete, praticamente dentro, come aveva anticipato anche Raffaele, c'è proprio una trilogia di interviste, di webinar sulle interviste che vengono fatte prima, nel momento della validazione, durante, quando c'è il prodotto, e addirittura dopo, quando si perde il cliente, capire perché lo abbiamo perso. Grazie a questi webinar, praticamente, sono andato proprio ad ottimizzare il processo, perché noi all'interno dell'agenzia abbiamo sempre fatto, e sempre faremo ovviamente delle interview iniziali di onboarding, e capire quali sono gli obiettivi dell'azienda, quali sono i tipi di prodotto, perché esistono quei tipi di prodotto, in che direzione vuole andare l'azienda, se vuole andare a vendere all'estero, tramite social, se vuole rimanere in Italia, se c'è una strategia ben definita. Ma, ovviamente, andando ad implementare anche questi tipi di interviste che abbiamo visto, insomma, sulle interview, praticamente siamo riusciti ad andare ancora più a fondo, che è una cosa che, ovviamente, anche i clienti hanno apprezzato, e, ovviamente, anche loro, non avendo competenza, non ci avevano nemmeno mai pensato più di tanto. Anzi, ovviamente, tante volte il cliente si fa prendere da dei bias del tipo, ah, ma il mio prodotto piace, un po' come abbiamo detto tutta la mattina quest'oggi, no? Quindi, qui è un'estensione di competenze, dove io parto, ovviamente, dal mondo social, sono un po' il tecnico delle ads, no? Sviluppo della strategia, quando faccio il coaching, quando faccio la gestione, però, ovviamente, quando poi un prodotto non si vende tramite una campagna Facebook, una campagna Instagram, o c'è qualcosa che non va, oppure il cliente non sa in che direzione andare, sicuramente queste sono dei webinar che hanno aiutato molto. Quindi, abbiamo applicato a diversi clienti all'interno dell'agenzia questi tipi di interviste, ci sono stati dei clienti che ha servito di più un'intervista rispetto ad un'altra, quindi a qualcuno anche per un'estensione di prodotti, rispetto a validare il prodotto esistente, capire che cosa c'era, cosa andava e che cosa non andava. E quindi, poi, ovviamente, c'è chi le ha usate tutte e tre, dove siamo andati ad implementare queste interviste totalmente, alcune, invece, hanno usufluito di una o più, insomma. E che cosa è successo? Grazie a queste interviste abbiamo avuto dei clienti che hanno allargato delle linee di prodotti, proprio perché c'era la possibilità di andare ad allargare il loro business, di andare ad allargare, magari, la durata degli acquisti, proprio perché magari ci sono dei clienti che si soffermavano su un certo periodo della vita di una donna, rispetto, per esempio, a un periodo di gravidanza, rispetto a altre fasce tipo di prodotto, che ne so, solo donne andavano verso l'uomo, e quindi, insomma, abbiamo spronato i clienti anche ad andare avanti ad andare a sviluppare nuovi prodotti. Altri, invece, hanno ottimizzato proprio i prodotti esistenti, proprio perché, sentendo le opinioni, hanno ottimizzato magari il packaging rispetto all'esperienza del prodotto, rispetto a tutto quello che girava intorno al processo della vendita. Quindi non è solamente il prodotto, ma magari il checkout all'interno dell'e-commerce, proprio perché magari durante le interviste, nonostante si era focalizzato sul prodotto, si è andati a parlare proprio della landing page di checkout, che non era funzionale da mobile, no? Ovviamente poi sono tutti aspetti anche tecnici, però fino a che non si tocca con mano e non si sentono i clienti che hanno soffruito del nostro servizio, magari sembra tutto bello e tutto fatto bene, no? Quindi. E poi gli altri, invece, hanno avuto proprio modo di analizzare meglio degli errori che venivano fatti e nessuno aveva ancora notato, e sono andati poi a ottimizzare alcuni dettagli per evitare, ovviamente, di perdere ulteriori clienti. Oppure capire che il prodotto magari non è per tutti o che non è lifetime, quindi una volta che viene comprato, si ferma lì l'acquisto e quindi poi anche da lì partono dei brainstorming per andare a sviluppare il proprio business. Quindi questo è un esempio di ottimizzazione che ho fatto grazie a una serie di webinar che in realtà, quindi, sono stati più di un webinar, una serie di webinar che poi sono stati voluti fortemente anche da noi partecipanti del Growth Programme, proprio perché Raffaele ogni mese poi fa il sondaggio e chiede qual è il contenuto che vogliamo vedere in priorità, no? Per esempio, l'ultimo mese è andato forte, giusto appunto ieri, c'è stato fatto il webinar riguardo ai contenuti video che è stato, credo, votato dalla grande maggioranza dei partecipanti, e ieri siamo stati più di due ore a tartassare Raffaele con domande sia tecniche che delle pippe mentali, certe volte, no? Ma meglio così o meglio così? E quindi, insomma, siamo andati veramente ad ottimizzare anche lì ieri, giusto appunto un esempio fresco fresco che ovviamente non ho inserito nelle slide. Poi un altro esempio di ottimizzazione del webinar con gli ospiti, io essendo un operatore, ovviamente, con Facebook, opero sempre con Facebook ed Instagram, in realtà si sono rivelati super utili dei webinar che talvolta potrebbero sembrare delle cose tipo, ah, ma io starevo qua già la faccio tutti i giorni, faccio Reels tutti i giorni con i clienti, faccio Reels per me stesso, per l'agenzia, per quello, per quell'altro, perché devo perdere tempo a guardare un'ora di webinar con un ospite, che in questo caso qua abbiamo Alberto Giannone, che fa contenuti scientifici, informativi, tramite Reels e TikTok e YouTube Shorts. Quindi già qua, in realtà, per me era già il TikTok, era ancora, questo è successo tipo più o meno cinque mesi fa, ero ancora abbastanza cerbo lato TikTok, anche e soprattutto per i miei clienti. Lato YouTube Shorts è ora un posizionamento che, ok, c'è, esiste, ma non l'avevo approfondito più di tanto. E quindi, tramite un webinar che sembrava quasi tipo ma so già tutto, in realtà, sono venute fuori un sacco di esempi pratici, abbiamo avuto modo, ovviamente, poi di parlare con l'ospite, questa è una delle cose più belle poi del Growth Program, perché ogni webinar viene fatto live qua su Zoom, come stiamo facendo oggi, e possiamo fare delle domande direttamente e parlare direttamente con gli ospiti, quindi vengono anche personalità di ogni tipo e genere, e soprattutto poi io, con Alberto, l'ho tartassato anche dopo il webinar, quindi siamo andati avanti a parlare proprio del test, ah, questo contenuto ti è funzionato meglio, ma forse potrebbe essere per colpo della musica, oppure potrebbe essere per la durata, oppure la tematica che era calda, e quindi sono andato avanti su una conversazione che in realtà da un webinar è andata lunga e anche con lui abbiamo iniziato a ragionare. E poi, per esempio, lui qua aveva portato un esempio bellissimo riguardo agli YouTube Shorts, dove aveva visto che all'estero avevano iniziato a prendere piede, ma in Italia non erano ancora arrivati, quindi lo aveva iniziato a pubblicare, 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 avendone tanti, non partivano, quando poi in realtà il primo li è andato in viral, ha avuto un sacco di visualizzazioni. Quindi anche lì è un esempio pratico di dire, anche ai clienti stessi, quando arrivano gli aggiornamenti, cerchiamo di metterli in atto subito. E anche qua sono andato ad ottimizzare ancora più, perché talvolta mi sentivo quasi scemo a dire, guarda che devi agire così, devi agire così. Vedendo sempre più casistiche, anche tramite questi webinar, aiutano molto. Un altro webinar super utile che ha aiutato ad andare a sviluppare ulteriormente delle strategie che già erano in essere con alcuni dei nostri clienti all'interno di TikTok è stato quello di Eliana Salvi, che ha lavorato per TikTok e poi ha fondato la sua agenzia. C'è un po' di parallelismo anche con la mia storia, quindi ha lavorato per la piattaforma e poi si è fondata l'agenzia, però è stato anche qua un webinar super dinamico dove siamo arrivati a chiedere delle domande specifiche, anche sul fatto, per esempio, della musica, del copyright rispetto ai formati, quelli che funzionano di più e quelli che funzionano di meno. Eliana ha fatto vedere proprio delle casistiche di success stories fatte tramite la piattaforma di TikTok che anche qua dici, vabbè, ma TikTok ormai lo so usare, ormai c'ho i miei numeri, invece ti vai a confrontare ulteriormente e anche qua siamo andati a sviluppare delle nuove strategie. Quindi qui il discorso alla base, diciamo, è talvolta si parte prevenuti che sappiamo tutto quando in realtà bisogna essere, secondo me, anche talvolta umili ed andare ad approfondire le tematiche che ci stanno a cacquare, su cui magari ci lavoriamo tutti i giorni e c'è proprio bisogno del confronto. Quindi queste ottimizzazioni sono arrivate tramite il webinar proprio perché mi sono tolto dei dubbi esistenziali, funziona meglio questo o quello? Per esempio, una delle domande più in voga che tuttora faccio ancora e ancora è un dubbio esistenziale che non riesca a levarmi, che sono arrivato a chiederlo anche a Giorgio Taverniti tramite una diretta Instagram, è per esempio meglio fare un canale YouTube solo di Shorts o andare a mescolare YouTube lunghi con YouTube Shorts all'interno del canale? Più o meno sono arrivato a una conclusione. Ovviamente ancora c'è da testare fino a che poi non si prova con la propria audience, con i propri video, con i propri canali, non lo possiamo mai sapere. Però sicuramente la durata lunga, la durata corta, la musica, quindi qui tra TikTok e video corti mi sono levato un bel po' di dubbi anche legati al discorso delle musiche che poi c'era chi diceva fate andate e vedete come va e usate le musiche senza fregarvi molto del copyright quando in realtà poi ne abbiamo ragionato anche durante il webinar e ovviamente bisogna fare attenzione anche di questo aspetto. E poi ovviamente vedendo degli esempi reali da cui tra respirazione sono andato, una cosa che facciamo noi in agenzia per esempio andare proprio a sviluppare gli storyboard per i TikTok dei nostri clienti proprio perché per esempio i nostri clienti talvolta hanno il blocco creativo oltre ovviamente a superare la paura di mettersi in telecamera per registrare TikTok la cosa che noi facciamo è ok, il TikTok deve durare 12 secondi in questo TikTok si vede la commessa del negozio che parla davanti alla telecamera che parla di questo vantaggio oppure in questo TikTok è ambientato nel parco dove si vede un bambino che arriva e gioca con la palla e da lì parte un messaggio emotional quindi da lì ovviamente vedendo dei esempi reali di success stories per esempio su TikTok o di casistiche per esempio di un settore che purtroppo colpa anche un po' mia magari non ho toccato mai perché era il settore scientifico il settore scientifico ok, qualche volta l'avevo intravisto però parlandoci poi con un webinar diretto insieme ad Alberto da lì sono venute idee per altri per altri clienti quindi super inspirational e super utili ovviamente sia per i miei canali che per i miei progetti ma soprattutto per i miei clienti e poi ovviamente vabbè mi sono sbloccato grazie a questi webinar io la definisco proprio un'ottimizzazione con la O maiuscola proprio perché tante volte uno va a procrastinare arriva e dice ma perché mi devo mettere davanti alla telecamera ovviamente poi una cosa che ci attacca un po' tutti penso non so voi che siete all'ascolto è la sindrome anche dell'impostore che viene tipo ma perché devo dire una cosa a telecamera se già la sanno tutti questa è una cosa che io nel mio percorso da quando ho avuto l'agenzia considerate che dal 2019 faccio lo speaker anche al Web Marketing Festival che ormai si chiama We Make Future a Rimini talvolta mi sentivo scemo di andare a parlare di Instagram davanti a mille persone e dire ma è possibile che queste persone non lo sanno in realtà ovviamente quando c'è confronto quando si portano gli aggiornamenti quando si va a parlare in realtà c'è sempre qualcuno che non sa qualcosa quindi l'impostore lo dobbiamo mettere anche un po' da parte soprattutto quindi ovviamente poi dipende da quello che fate però se avete un'azienda magari non dovete essere voi a mettervi davanti alla telecamera ma dovete riuscire a capire come comunicare alla vostra azienda sui canali social per esempio quindi magari c'è bisogno di un esperto che vada là a fare la strategia e soprattutto trovare la quadra però non si può chiudere gli occhi di evitare anche questi canali insomma quindi queste sono un po' ovviamente sembrano sembrano poche ma in realtà ci sono state un bel po' di ottimizzazioni in corso poi il secondo punto sono quelle proprio delle ottimizzazioni della community quindi le ottimizzazioni che ho ricavato dalla community che come dicevo prima il growth program vuol dire anche la community giusto appunto ne abbiamo parlato adesso con Grace senza community si va si va ben poco lontani e uno dei vantaggi del growth program sono proprio le persone che compongono l'academy del growth program e in realtà qua nel corso di questi quasi due anni mi ha portato ben più di quattro ottimizzazioni come dicevo anche all'inizio ma per farvi un esempio ogni mese c'è la sessione di domande e risposte con Raffaele e i membri della community vanno a fare domande prima del webinar vengono scritte all'interno del gruppo oppure le facciamo live direttamente a Raffaele talvolta ci sono delle domande che magari o ti sembrano stupide o magari non ci hai ancora pensato però vai ad ascoltare cosa dicono gli altri membri della community cosa vanno a chiedere a Raffaele e quindi sono delle domande che talvolta o hai paura di farle perché dici ah ma forse io questa roba qui la dovrei sapere oppure ma questa roba qui forse sto per dire una cavolata tante volte anche quando vado a fare le conferenze forse la mia domanda è un po' stupida non ci sono mai domande stupide siamo in un'academy siamo proprio opposta per imparare quindi qua in realtà tramite le sessioni di Q&A dove ho fatto io domande dove sono state fatte domande dagli stessi componenti tra l'altro c'è un bel vastissimo archivio di più di due anni di Q&A registrati ci sono veramente un sacco di tematiche da riprendere e che possono aiutare anche ad ottimizzare la vita di tutti i giorni quindi per esempio come si lavora da casa o viaggiando rispetto a quali tool utilizzare e lì poi ovviamente parte tutto un meccanismo che poi va ad ottimizzare anche il workflow per esempio dell'agenzia oppure l'organizzazione del team poi all'interno della piattaforma che usiamo del Growth Program abbiamo un sacco di spazi ovviamente anche per chiedere cosa ne pensate di questa idea la mia idea è questa e tiriamo giù l'idea ovviamente oppure ho fatto questa landing page mi date un feedback e quindi anche qua in realtà sembra poco ma non lo è assolutamente avere una community super attiva che è pronta a risponderti sia nei commenti sia a contattarti in privato per darsi suggerimenti è una gran bella figata proprio perché talvolta ci si sente anche soli quindi oppure io nonostante abbia un team talvolta mi sento da solo con il team quindi non sono da solo io ma magari siamo in dieci in cinque quelli che siamo e invece poi andando a chiedere feedback è super proattiva la community e quindi qui come ho detto ho iniziato a utilizzare alcuni software grazie alla comparazione fatta parlandone con altri utenti un esempio proprio nudo e crudo fresco fresco ieri alla fine della live di Raffaele dove parlava della creazione dei video io stavo comparando OBS con un altro software insieme a un altro componente quindi poi ieri sera mi sono andato a vedere per fare la regia automatica per fare poi meno editing per i video per avere molte telecamere quindi sono andato a vedermela per esempio altra cosa molto figa sono le tematiche che vengono fuori proprio parlando con i componenti della community quindi anche qua quest'estate su Zoom c'è Simona che tra l'altro dovrebbe essere in live qua con noi oggi prima ho visto che faceva delle domande Simona ha proposto guardate che c'è questo bando per avere un voucher del fondo imprese creative che possono avere 10.000 euro spendendone 2.500 vi faccio vedere come si fa il bando e quindi abbiamo organizzato una live autogestita senza il professor Raffaele e poi l'abbiamo registrata l'abbiamo resa disponibile alla community però anche lì ci siamo confrontati ma come fai a fare questo Simona ha poi dato dei tricks proprio dei segretini da operatrice di quella che manda i bandi insomma che si applica ai bandi in realtà anche qua questa è una cosa che aiuta tantissimo immaginiamoci questa roba del bando che magari i clienti di agenzia non sapevano ho mandato il messaggio e da lì poi è partito tutto il processo e poi vabbè ovviamente community vuol dire anche conoscere le persone e tra l'altro anche qua siamo freschi freschi da una settimana fa del meetup che abbiamo fatto a Roma all'El Venture sopra Roma Termini dove mi aspettavo quasi ah ho fatto il meetup a Firenze a dicembre dell'anno scorso rivederò tutte le stesse persone in realtà eravamo un po' dei vecchi e un bel po' di gente nuova quindi anche lì c'è tutto un networking in continuo dove ci siamo iniziati a conoscere poi ovviamente ah poi ci sentiamo in call un po' vengono fuori delle collaborazioni un po' magari vengono fuori opportunità di lavoro ovviamente e quindi poi anche lì vi faccio un esempio c'è Andrea che sta a Londra un altro componente talvolta ci sfoghiamo su problemi di lavoro e ci facciamo una chiamata proprio tra amici altre volte magari con Davide Gian Soldati che sta dentro parliamo più di podcast ci confrontiamo su quali podcast ascoltiamo quindi capite che qua poi parte un mondo quindi la voglia è di parlare poi all'interno del growth program io mi sono proposto proattivamente proprio di fare una cosa che mi riguarda molto da vicino che è una rubrica settimanale più o meno 7-10 giorni in base anche a quanti aggiornamenti escono dove io praticamente lancio la la palla dentro la community che ci sono X aggiornamenti legati al mondo social come vedete qua per esempio parlavo stavano arrivando gli NFT su Facebook i Reels avevano la possibilità di fare i template ci sono dei co-tweet di Twitter insomma alcuni aggiornamenti dove poi in realtà cerco di spronare anche un po' la community per capire se qualcuno ha già l'aggiornamento attivo sui propri profili se già stanno utilizzando quel tipo di aggiornamento o che cosa ne pensano dove poi ovviamente parte anche una bella discussione di come potrebbe essere il futuro o di che cosa in realtà manca dentro le piattaforme o come si possono andare a applicare questi aggiornamenti quindi anche qua a me serve capire un po' di come stanno girando gli aggiornamenti proprio sugli utenti o sugli addetti ai lavori quindi anche proprio un confronto io do qualcosa ovviamente in cambio dicendo ovviamente queste sono le news voi cosa state già facendo cosa non state facendo e almeno capisco anche magari viene fuori io ho già testato questa cosa e poi mi confronto privatamente con quella persona oppure anche dentro i commenti dentro la piattaforma quindi capite che è una roba super dinamica poi last but not least le collaborazioni per farvene alcune per esempio collaboriamo in questo momento con Gianluca Ferraro che è un innovation coach lui ha già collaborato con diverse agenzie la nostra è un'agenzia che è partita dal basso specializzata su un settore e in questo in questo ultimo anno abbiamo fatto già diverse sessioni di coaching per capire in che direzione vogliamo andare per il futuro e come andare a strutturare meglio per esempio parte del team da remoto o se andare ovviamente a integrare parte del team internamente qua a Lisbona o vedere come andare a sviluppare la parte di business un altro esempio che vi posso citare per esempio Greta Merlin che è da parecchio tempo anche lei dentro la community lei è una freelance che crea siti internet e ovviamente poi anche lì in base a quando a noi ci arrivano i clienti in base anche al budget in base alle necessità siamo andati a creare un sito intero su WordPress con molta facilità per un cliente super soddisfatto e quindi insomma capite che anche per me che sono tra l'altro da una parte distante dall'Italia trovare qualcuno che sia in Italia e ovviamente poi vada a complementare perché talvolta quando arrivano i clienti per fare le campagne hanno il sito rotto oppure vorrebbero fare qualcosa ma il sito va ottimizzato quindi anche tutte queste parti dove io ovviamente non sono l'esperto ne ho bisogno quindi c'è già diciamo un pubblico molto caldo all'interno della community che ha ognuno le sue competenze e da qui nascono bellissime collaborazioni poi ovviamente voglio parlare solamente di me dentro il group program so che sono proprio creati dei team di lavoro poi Raffaele magari può proprio confermare e quindi proprio partono progetti magari veramente potreste veramente trovare che ne so il co-founder della vostra startup proprio perché magari c'è già qualcuno che ha avuto esperienza esperienza in quel campo così come invece parti integranti del team di lavoro quindi in conclusione le quattro ottimizzazioni in realtà ve ne ho date molte di più lo sapevo già che andava a finire così ma anche Raffaele sapeva che andava a finire così alla fine però diciamo le prime due ottimizzazioni sono quelle create dai webinar di Raffaele dove insomma abbiamo ottimizzato una parte di con il cliente che sono state proprio le interviste che sono andate oltre alla nostra parte grazie anche ai webinar ai template che Raffaele poi ci ha dato durante il webinar e poi tra l'altro voi oggi avete avuto la fortuna di vedere anche proprio parte integrante ovviamente lui ha condensato i tre webinar in un talk da 30 minuti oggi però vi garantisco che in tre webinar da un'ora ciascuno è venuto a fare un lavoro grosso e siamo andati ovviamente a espandere poi con gli ospiti abbiamo avuto io ho avuto un'ottimizzazione proprio di idee ispirazione sviluppo di strategie messo da parte la signora dell'impostore iniziato a mettere da parte anche la procrastinazione l'ottimizzazione della community quindi levato dubbi comuni fatto confronti e brainstorming quindi allargare anche tra l'altro per esempio un altro webinar organizzato in autogestione con Simona dovete sapere che all'interno della community ogni sabato esce un post del cosa ho imparato oggi cosa ho imparato questa settimana e ogni settimana ovviamente c'è chi dice ho imparato ho sbagliato qua ho imparato questa cosa e quindi una volta per esempio Simona diceva ho imparato si parlava tipo di task di come venivano gestite le task e quindi Simona ha tirato fuori per esempio io gestisco tutto col metodo dei tre cartoncini colorati e quindi ho detto no ora mi devi dire di più e vabbè facciamo allora mentre te lo spiego facciamo una live proprio per la community perché magari può essere utile ad altri e quindi mi ha spiegato tutta una sua metodologia perché quando ha troppe task va su un cartoncino verde con le priorità più alte un cartoncino arancione quelle che devono stare lì però piano piano devono essere fatte e poi quelle di piacere quindi anche lì è stato bellissimo perché abbiamo fatto un webinar tra di noi autogestito e anche lì sono andato ad ottimizzare proprio anche il mio metodo di lavoro dove ci ho provato in realtà con i cartoncini non nego che non ci sono riuscito però da lì sono andato verso la direzione del calendar con i colori e tutto quello che si collega ma vabbè collaborazioni quindi l'ultimo punto il quarto punto giusto appunto è aggiunta dei servizi in agenzia quindi ulteriori cose da poter vendere ma soprattutto per andare a velocizzare il processo perché se il cliente ha bisogno del sito il sito ci mette una vita a essere fatto oppure aspetto lui che riesca a farlo ma in realtà riesco a gestire il progetto dando poi in gestione a qualcuno che è dentro il growth program questa parte di servizio vado ad accelerare poi ovviamente anche il mio contratto per poi iniziare a fare le sponsorizzate su Facebook e Instagram e poi ovviamente insomma in questo momento anche Gianluca ci sta aiutando un sacco proprio perché ha un sacco di esperienza e questa cosa che poi siamo di varie età cioè dello studente universitario il trentenne quarantenne come me che insomma si sta cioè quando mi sento chiamare imprenditore di cavolo sto invecchiando e dall'altro lato invece ci sono cinquantenni sessantenni che hanno veramente molta esperienza per esempio ultima citazione di qualche intervento fatto all'interno del program questo mese c'è stato anche un talk riguardo alle agenzie come si sono evolute in questi anni e quindi è bello vedere come le agenzie si sono evolute è stato bello vedere come le agenzie si sono evolute perché chi ha fatto l'intervento praticamente lavora in agenzia da una vita e ha visto proprio come l'agenzia cioè si parlava di google ads con costi minimi senza competitor ed è bello sentire anche come come si è evoluta è una cosa che poi ho vissuto anche quando ero a facebook proprio perché vedevo delle agenzie con i meganomi che magari non facevano quello che dovevano fare proprio perché magari i social lo vedevano ancora un un accessorio però anche lì parte un confronto continuo quindi insomma questo è quello che ho ottimizzato all'interno del del growth program non mi dilungo ulteriormente perché ve ne ho dette di ogni ovviamente se avete domande e volete sapere qualcosa di più mi potete scrivere questo è anche il mio sito edvplus.digital e poi ovviamente mi trovate anche su instagram giusto appunto perché c'è da costruire la community come diceva Anne Grace grazie a tutti